Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale Sono Vince, oggi vi spiegherò come poter volare in un parco nazionale ed in particolare nel parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga. Esatto, avete capito bene, infatti grazie all'associazione Drone Italia che sta lavorando proprio in collaborazione con i parchi siamo riusciti ad ottenere il primo nulla osta per creare il nostro evento dedicato proprio a noi dronisti al quale devi ovviamente assolutamente partecipare. Siamo in fase di sviluppo e anche in contatto proprio con i parchi per cercare di trovare una soluzione diciamo che per tutti noi non sia troppo limitante ma che rispetti allo stesso tempo anche le condizioni del parco perché è molto importante perché sono insomma vari parchi in giro per l'Italia e dobbiamo rispettare alcune regole. Insomma Drone Italia in pieno movimento proprio su questa questione spinosa se vuoi supportare la nostra associazione vai nel link che trovi qui sotto in descrizione per associarti leggi bene tutti i vantaggi di essere associato perché sono molto succulenti vai a vedere perché è vero. Gli affezionati di Drone Italia sapranno infatti molto bene che cosa è UAS Camp e ne abbiamo già fatti alcuni come ad esempio UAS Camp Senigallia, UAS Camp Sorano, UAS Camp Biella abbiamo in programma adesso questo UAS Camp Abruzzo e ovviamente in futuro un altro già UAS Camp Piemonte. UAS Camp è la realizzazione pratica proprio di un'idea che è nata dal team Drone Italia con l'obiettivo principale di creare un punto di aggregazione per tutti gli appassionati di droni con la creazione di gruppi di lavoro gestiti da persone ovviamente esperte, ognuno per i suoi argomenti che metterà a disposizione appunto le sue conoscenze per i partecipanti all'evento. Si potranno condividere esperienze comuni riguardante anche agli aspetti tecnici e quindi il rispetto delle varie normative di volo, un punto di aggregazione, chiacchieremo, ci divertiremo veramente un sacco questo è garantito. UAS Camp Abruzzo si svolgerà il 22 e il 23 aprile tra i comuni di Rocca Calascio e Santo Stefano di Sessanio con i quali abbiamo anche il patrocinio. Avremo come ospite probabilmente anche la direzione del parco al quale potremo rivolgere delle domande, cercare appunto di far capire che noi dronisti siamo spinti dalla passione per il volo e che non abbiamo intenzione di fare nessun disastro naturale, per quello ci pensano altre persone e altre attività, non di certo noi dronisti. Preparatevi però a fotografare un'alba indimenticabile proprio a Rocca Calascio, pilotando il tuo drone ovviamente in totale sicurezza. Infatti solamente chi sarà iscritto al nostro evento e sarà in regola con eventuale attestato di pilotaggio remoto, assicurazione obbligatoria, ve lo ricordo, e QR code operatore, avrà la possibilità di volare autorizzato proprio dall'ente parco. Infatti una cosa importante che vi devo dire è che per l'alba i posti sono limitati, quindi vi raccomando specificate bene quando andate a prenotare se volete appunto volare la domenica mattina. I posti non sono tantissimi, l'alba non dura infatti molto e i droni non possono volare contemporaneamente in sciame, ma possiamo farli volare solamente due, massimo tre alla volta. Non vi preoccupate, però se non riuscite a fare ovviamente il vostro volo all'alba nella giornata di sabato potremmo volare e abbiamo pensato a sessioni di volo al pomeriggio, al tramonto e anche ovviamente la sera per chi lo vorrà. Una bella novità di questo Waskamp è Drone Mask che è appunto lo sponsor ufficiale dell'evento, quindi vieni assolutamente a provare l'emozione del volo in FPV. Avremo a disposizione dei partecipanti alcune delle incredibili Drone Mask da poter testare. Ti garantiamo che se non l'hai mai provata rimarrai piacevolmente sorpreso dalla bellezza di volare con questo visore FPV per la qualità incredibile che regala dell'immagine. Offriremo proprio un codice sconto valido fino al 30 aprile per risparmiare il 20% sull'acquisto di questo prodotto e quindi non perdere questa occasione unica di sperimentare il volo in prima persona, ragazzi vi raccomando. Ovviamente tutto il programma dell'evento lo troverai nel link qui sotto in descrizione appunto di questo video, vai a leggerlo e soprattutto prenota il tuo posto. I costi sono 40 euro ovviamente per i soci Drone Italia, 70 euro per i non soci che però si tessereranno in concomitanza proprio dell'evento oppure 90 euro per chi non è interessato a diventare socio di Drone Italia. I costi a parte quindi di questa quota sono il pranzo, chiaramente abbiamo scelto un pranzo a 20 euro che potete fare con noi, oppure c'è anche a parte la cena dove siete liberi di andare dove volete e il pernottamento che gestirete in completa autonomia. Non abbiamo infatti strutture convenzionate quindi scegliete quelle che più soddisfano i vostri requisiti e quella che vi piace ovviamente di più. Però fate presto, sappiamo già che è un periodo dove ci sono parecchie prenotazioni quindi è meglio anticiparsi nel prenotare il tutto per non rimanere diciamo così delusi per non aver trovato appunto il posto con cui dormire. voglio lasciarvi proprio con un bel video qui sotto dei nostri UAS Camp, vi faccio vedere ovviamente qualche clip di quello che abbiamo fatto, ci siamo sempre divertiti tantissimo quindi non mi rimane altro che invitarvi ad iscrivervi al nostro evento, probabilmente lo sapete il nostro team riuscirà sicuramente a farvi divertire, a insegnarvi qualcosa e ovviamente come avete visto stiamo muovendo mari e monti se non parchi per fare tutto a livello associativo e quindi abbiamo assolutamente bisogno del vostro supporto. Buona visione del video, io vi ringrazio per essere restati con me fino alla fine, vi raccomando trovate tutto qui sotto in descrizione vi aspetto, non mancate. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Grazie a tutti.